Oggi siamo qui ai cancelli della Marchesini Group a Pianoro. La Fion di Bologna insieme ai delegati sindacali del resto della Marchesini lancia oggi un questionario, un sondaggio per coinvolgere le impiegate e gli impiegati, le lavoratrici e i lavoratori chiedendo che cosa pensano dello strumento dello smart work. Quindi partiamo con un questionario e nei prossimi giorni chiederemo un confronto all'azienda perché pensiamo che le esigenze dei lavoratori e le nuove esigenze che anche l'emergenza del coronavirus ha portato richiedano un salto in avanti della contrattazione perché tutti i lavoratori hanno bisogno dei diritti e quello di avere un rapporto costruito e contrattato tra tempo di vita e tempo di lavoro penso sia uno dei nuovi diritti che i lavoratori e la lavoratrici hanno e che il sindacato deve affrontare. Abbiamo indetto un sondaggio per la prima volta sullo smart working per sondare la sensibilità dei lavoratori rispetto a questo tema. Durante l'emergenza Covid diciamo che è uno strumento che non è stato molto utilizzato e quindi vogliamo capire la sensibilità dei lavoratori rispetto a questo strumento secondo noi molto utile. Ritengo che sia uno strumento molto utile per le aziende anche ai fini di una compatibilità ambientale, snellimento del traffico e quindi poter esercitare le attività da casa sarebbe un elemento strategico per le aziende per da parte loro contribuire a questi aspetti che in queste zone, in queste aziende così ricche di impiegati possono essere un elemento favorevole ai fini lavorativi e quindi anche al contesto ambientale.